Siete entrati a casa mia, spero con le telecamere esterne di vedervi. Entro quest'anno sarete cenere. Vi scoverò io e vi porterò a cremare. Parole pesantissime scritte sui social da Fabio Busanel, titolare del Caffè Mio di Viale 13 Martiri a San Donà, ai ladri che nella notte tra giovedì e venerdì si sono impadroniti del fondo cassa del suo bar, circa 250 euro, e di un pc portatile con il quale gestiva la musica nel locale e molte cose personali. E questo lo ha riempito di rabbia. Ed è brutto arrivare a farsi giustizia a sé, giustamente, però se la legge non cambia e chi lavora non è tutelato, sia dalle forze dell'ordine che noi commercianti in prima linea o anche uno a casa che vive, è normale che poi alla fine purtroppo certe cose ti vengono in mente di farle, sbagliando o meno, però cosa fai? È il primo episodio del genere dopo 30 anni dietro a un bancone, sottolinea Busanel, tra le persone, tante delle quali passate a esprimergli solidarietà, tra loro nessun politico. Il ristoratore si sente tradito dalle istituzioni, soprattutto dalle leggi che non mandano dietro le sbarre gli autori di questi reati, quasi costringendo chi li subisce a farsi giustizia da sé, fino ad armarsi. Dobbiamo essere, secondo me, preparati a tutti, il problema è che purtroppo, anche quando ci si difende, quando ti arriva un ladro in casa, alla fine si passa sempre da parte del torto. Devono anche loro capire che se non cambiano le regole si arriverà a questo. Busanel, anche sulla scia di altri fatti del genere successi a Sandonai e Esolo Mestre, invita tutti a non tacere. Non dobbiamo avere omertà, ma dobbiamo sempre combattere questa criminalità, non avere paura e dire le cose che sappiamo, anche perché poi è nell'interesse di tutti, insomma. Grazie a tutti.